Comincia l'anno e i cittadini, in particolare gli automobilisti, sono tartassati. Ma quanto è giusto? Non è per niente giusto. Direi che è proprio un rientro amaro dalle vacanze, perché ci sono dei rincari enormi sulle autostrade e in particolare l'area di Milano, la tangenzia di Napoli, quella di Aosta, lì i cittadini noteranno un incremento notevole dei costi. Sarebbe anche accettabile un aumento dei costi a fronte di un miglioramento della qualità del servizio, cosa che noi invece ad oggi non possiamo controllare. Sono previsti altri aumenti secondo lei per quanto riguarda gli automobilisti? Dobbiamo stare attenti anche al problema delle multe nelle città, perché i bilanci dei comuni prevedono anche un incremento in questo senso. Quindi attenzione, aumenteranno le multe e questo renderà gli automobilisti la vita più difficile.